L'accordo che oggi abbiamo sottoscritto è un accordo importante perché sorregge il piano sociale che abbiamo condiviso con l'azienda, tra azienda e sindacato. Sicuramente il condividere in un percorso che ormai era aperto da alcuni mesi con tutte le istituzioni locali, provincia, comune di Bergamo, regione Lombardia, ha portato a questo accordo che sicuramente servirà e avrà come obiettivo quello di cercare di ricollocare più persone possibili, sapendo che il momento è un momento complicato, un momento difficile, quindi se avremo fatto bene il nostro lavoro e avremo fatto bene squadra in questi mesi, sicuramente lo valuteremo tra qualche anno.